Nel 1940, Mario Soldati, dopo aver firmato il contratto per la reggia della trasposizione cinematografica del romanzo, Piccolo Mondo Antico di Fogazzaro, si mette alla ricerca degli attori e dei collaboratori per la realizzazione della pellicola. Per la parte di Ombretta vede diverse aspiranti attrici e dopo decine di provini, davanti alla cinepresa sceglie la Pascoli. Per la parte della bambina, questa scelta sarà oltre modo indovinata. La piccola recita in modo spontaneo, tanto che subito dopo è pronta per un nuovo film La Fuggitiva, girato a Torino alla Fert, dove a modo di mettersi maggiormente in risalto diventando la prima diva bambina di Cinecittà, una Shirley Temple italiana in rivalità con l'altra attrice bambina italiana. Più grande di lei, dell'epoca, Miranda Bonansea, nel 1943, è nel cast di Gran Premio diretta da Giuseppe Musso su soggetto di Umberto Scarpelli, dove interpreta la figlia di uno sfortunato allevatore di cavalli, che nel finale vedrà la vittoria del puledro e il ritorno della felicità familiare.